E' successo che arrivando da Urbino per le 1.20 questa rive riparte subito. Io ho visto tutte queste persone, saranno stati 70, adesso più o meno, di fatti erano anche di più perché il lumacone a sedere sono 69, 10 in piedi erano 79. Praticamente 79 persone, tutti in un botto, noi dobbiamo fare la linea, come faccio adesso? Allora ho telefonato in dita, non rispondeva nessuno, va bene, dico adesso mi organizzo un po', nel frattempo ho aperto solo una porta, perché prima voglio vedere cosa fanno, dove vanno, tutto. Andiamo a Fossombrone, va bene, io ho detto aspettate, guarda facciamo una cosa, visto che io devo fare la linea, è già pieno con la linea, facciamo una cosa, chiamiamo un pullman e voi andate su, no, 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 noi vogliamo salire perché noi abbiamo il viglietto. Io ho detto aspettate, il pullman, anche se partite 10 minuti dopo, fa la superstrada, arriva a Fossombrone, arrivate prima della linea, niente da fare. Allora io mi sono permesso un attimo di far salire, c'erano 10 persone che hanno l'abbonamento, i ragazzi delle scuole e tutto, e questi mi si sono scagliati contro, capito? Mi sono scagliati contro, io ho dovuto, niente, a mollare, mollare perché questi, è una roba che ti ammazzano, guarda, è una roba proprio mai successo, 35 anni che faccio l'autista. I ragazzi poi mi hanno raccontato che sono dovuti andare al pincio a piedi. No, però nel frattempo che io ho finito di sistemare tutta questa, sono saliti tutti, però io ero strapieno, non potevo prendere nessuno, però è arrivato il mio collega e ha fatto la linea normale, ma ha fatto lui la linea fino a Fossombrone, perciò il servizio è stato coperto, non c'è stato nessun problema. Io adesso non so se qualcuno di questi ragazzi sia andato via perché ha visto che il pulmo era strapieno, però il servizio è stato fatto regolarmente.